Oggi i sindaci molisani si sono recati a Roma per esporre al ministro della salute Schillaci problemi riguardanti la sanità, carenza di organico e tagli insostenibili. Festino a base di droga, in arresto due coniugi menafrani nell'ambito dell'operazione della squadra mobile di Sernia, occultati anche diversi quantitativi di stupefacente. In Molise bastano poche ore di pioggia per generare difficoltà nella circolazione stradale, soprattutto delle aree interne, molte a rischio inondazioni e smottamenti. La saggete è slaudacea, discorsi per l'Italia e l'Europa, presentato già a Campobasso al Dipartimento Giuridico, un volume in onore di Dan Sassoli. Un caro saluto a tutti e ben ritrovati con questa edizione del telegiornale di TLT. In apertura parliamo della questione sanitaria perché oggi i sindaci molisani hanno incontrato il ministro della salute Orazio Schillaci, seduti al tavolo oltre al ministro anche i parlamentari molisani della Porta e l'Ancellotta, il subcommissario Buonamico e il presidente della conferenza dei sindaci Daniele Sai. Assenti invece il commissario ad acta Donato Toma e altri parlamentari della regione. Al centro dell'incontro sempre la sanità. I sindaci hanno chiesto misure straordinarie per l'azzeramento del debito dopo 14 anni di commissariamento. e proprio durante l'incontro anche il primo cittadino di Campobasso, Roberto Gravina, ha commentato la seduta come un importante incontro nel quale è emersa la disponibilità da parte del ministro Schillaci di rivedere il decreto Balduzzi. Questo significa per il Molise riconsiderare, dice, l'offerta sanitaria. Sono stati affrontati poi anche i problemi relativi alla rete dell'emergenza urgenza con il 118 e il pronto soccorso. Ma restiamo sempre sulla questione sanitaria. Carenza di farmaci e presidi sanitari, apparecchi non funzionanti, mancanza ancora di posti, letto e personale medico che non conosce la lingua. Il grido d'allarme, questo del primario del pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Sernia, Lucio Pastore. Ma guardiamo tutti i dettagli in questo servizio. Cominciano a mancare farmaci e presidi sanitari. Non è possibile eseguire esami importanti come l'emogas analisi perché i tre apparecchi presenti nella struttura ospedaliera non sono funzionanti. Non si trovano posti per pazienti particolari come quelli psichiatrici, né in regione né nelle regioni vicine. E siamo costretti a trattenerli in pronto soccorso con rischi enormi. Così il primario del pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Sernia, Lucio Pastore, dopo un lungo periodo di assenza dal lavoro per preservare la sua salute, viste le condizioni in cui i dottori ed infermieri sono costretti ad operare e tornato in servizio per gli ultimi giorni prima di andare in pensione. Ho trovato una situazione ancora più disastrata dove il rischio di errore clinico è sempre più alto, ha continuato il primario. Non c'è mai limite al peggio. Per la mole di accessi non si ha tempo di valutare con accuratezza i pazienti ed il rischio di commettere errori clinici è elevato. Dobbiamo lavorare con personale medico che non conosce bene la lingua e questo è un ulteriore problema. Un ritorno agli inferi quindi dove la paura di sbagliare spinge ad una medicina difensiva con richieste continue di esami e consulenze e accumulo di pazienti nei locali portando alla mancanza di posti letto. Mai si era arrivati a condizioni così precarie e frustanti, ha incalzato Pastore rivolgendosi ai politici di turno che continuano a blaterare una difesa della sanità pubblica senza mostrare però uno straccio di progetto che possa far sperare in un reale cambio di rutta. E cambiamo adesso argomento e passiamo alla pagina della cronaca. I manette due coniugi venafrani nell'ambito di un'operazione antidroga a seguito di una perquisizione domiciliare dopo la segnalazione di un festino sul tavolino all'interno dell'abitazione un piatto dove vi era una banconota arrotolata e della cocaina raccolta e strisce pronta per il consumo mentre i poliziotti procedevano alla perquisizione. Due degli occupanti all'alloggio hanno anche cercato di disfarsi della sostanza gettando un piccolo involucro di cellofane e una casa forte metallica all'esterno dell'abitazione. Al suo interno circa 380 grammi di droga suddivisa in sette involucri dopo le formalità di rito i due dagati sono stati associati rispettivamente presso la casa circondariale di Sermia e di Chieti. In Molise bastano veramente poche ore di pioggia per creare allarme sulla viabilità delle zone interne con legamenti stradali a rischio, inondazioni e smottamenti. Ma andiamo a vedere questo contributo. Da settimane gli agricoltori invocavano, se non la neve, quantomeno precipitazioni piovose dal cielo per lenire la sete dei terreni. Per molte ore il Molise è stato interessato da precipitazioni insistenti, manna per le campagne coltivate dopo un lungo periodo di siccità. Eppure succede che in alcune situazioni particolari è bastato qualche centimetro in più di acqua piovana che si sono riproposte condizioni idrogeologiche negative. È stato il caso del Movimento Franoso e Fanghiglia, che hanno invaso il provinciale 78 in territorio di Palata all'altezza del tratto di Cerritello. Qui si è dovuto arrendere a madre natura l'autobus di linea che collega il paese al capoluogo di regione, uno smottamento prevedibile per coloro che conoscono l'area, ma che ha bloccato studenti e lavoratori pendolari nella giornata di ieri. Chi di dovere forse avrebbe dovuto agire prima. Il Consiglio provinciale a Palazzo Magno, probabilmente svilito nei ruoli e negli investimenti a disposizione, è ormai solo una istituzione, spesso autoreferenziale, distratta dalle esigenze della popolazione e degli automobilisti. Un Molise che collassa su se stesso, poiché è lo stesso sistema politico incapace di guardare oltre il proprio naso e programmare presente e futuro per i suoi cittadini. I carabinieri restituiscono una campana risalente al 1864 per la tutela del patrimonio culturale dell'Aquila. Don Gabriele Tamilia, parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta di Ripa Bottoni. La campana è stata rinvenuta dagli arredi in un'abitazione del congiunto defunto, i quali nell'immediatezza hanno contattato i carabinieri di Campobasso, che a loro volta si sono interessati e hanno contattato il nucleo della tutela del patrimonio culturale dell'Aquila. 21 milioni di euro alla regione Molise per la manutenzione degli impianti della diga di Ripa Spaccata, in territorio di Montaquila. Il finanziamento è stato ottenuto grazie all'approvazione in Senato di un emendamento del senatore Claudio Lotito. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli. Approvato in Senato l'emendamento a firma di Claudio Lotito sull'adeguamento sismico di alcune strutture della diga di Ripa Spaccata in agro del comune di Montaquila. E' stata autorizzata infatti in favore della regione Molise la spesa di 21 milioni nel triennio 2023-2025. Nel dettaglio l'emendamento con parere favorevole di governo e relatori prevede manutenzioni impiantistiche strumentali, adeguamento sismico delle strutture in cemento armato del manufatto di scarico e della casa di guardia. La diga è di particolare importanza perché ferma detriti e tronchi trasportati dalla piena del Volturno. Una buona notizia quindi che arriva dopo l'allarme lanciato qualche mese fa a seguito delle pesanti precipitazioni che hanno provocato l'ostruzione delle griglie di cemento. Un'opera infrastrutturale fondamentale per la messa in sicurezza del territorio che i cittadini aspettavano da tempo e che servirà anche a realizzare manutenzioni impiantistiche strumentali, ha dichiarato il senatore di Forza Italia Claudio Lotito, nonché coordinatore regionale del partito in Molise. Mentre il prezzo della pasta sale, quello del grano sta scendendo. A denunciarlo è la Confederazione dei Coltivatori che in campo nazionale evidenzia come a fronte dell'aumento del 18% del prezzo della pasta nell'ultimo anno quello del grano duro per produrla viene pagato agli agricoltori il 30% in meno dello stesso periodo. Un'anomalia emersa dai dati diffusi dall'Istat che pesa anche nelle tasche dei consumatori quali a rigor di logica di fronte ad un abbassamento del prezzo della materia prima e spese degli agricoltori dovrebbero poter beneficiare della diminuzione dei costi della pasta all'interno del carrello della spesa. Ma cambiamo argomento adesso. La CGL Molise esprime il proprio dissenso per il cosiddetto decreto cutro che convertito in legge farà danni ingenti creando ingiustizie e sofferenze colpendo nella dignità le persone. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il decreto cutro, il cui percorso prevede la conversione in legge trova la netta opposizione della CGL Molise che esprime tutto il dissenso e la lontananza. Per il sindacato il decreto è sbagliatissimo perché in concreto produrrà ancora tante ingiustizie e sofferenze continuando tranquillamente a non riconoscere e rispettare le persone. Una volontà questa del governo che continua ad andare verso una demolizione del SAI sistema accoglienza e integrazione. Il percorso affidato ai comuni che già con il decreto Salvini nell'ottobre del 2018 aveva subito delle modifiche che disdegnavano ogni attenzione per gli esseri umani. Modifiche che si indirizzarono al gesto della sottrazione dei richiedenti asilo al sistema di accoglienza diffusa e all'inserimento nei CAS i centri di accoglienza straordinaria che sono luoghi affollatissimi dove le persone si ritrovano ferme ed impossibilitate a svolgere una qualunque formazione o ad intraprendere qualunque strada utile per la crescita personale e per essere utili alla comunità. Un ghetto, una prigione, un recinto come fossero animali senza l'attenzione e il rispetto che si deve a degli individui e appunto alle persone. Oggi il rischio è perfino maggiore. Il governo punta su quei lager che per renderli magari meno traumatici vengono chiamati hotspot luoghi infernali che sono di fatto concepiti come vere e proprie prigioni luoghi di estrema invivibilità assolutamente lontanissimi dall'essere semplici strutture di prima accoglienza e in attesa di un percorso migliore. Ci si aspettano nuove divisioni tra richiedenti asilo e rifugiati si vuole tornare indietro ai periodi peggiori i grandi centri dalle conseguenze catastrofiche con ricadute micidiali per i territori e le varie gestioni dei fenomeni. Cancellare la protezione speciale e produrre sempre più irregolarità sfruttamento e disuguaglianza. Tutto questo non va bene per la Cigelle Molise pronta ad un'azione di lotta sempre in funzione del rispetto per la tutela della vita umana. In occasione della giornata nazionale della salute della donna promossa dal Ministero della Salute il Neuromed di Pozziglia aderisce organizzando una mattinata di prevenzione contro il tumore alla mammella. Sabato 22 in sede sarà dunque possibile effettuare gratuitamente un'ecografia mammaria ad una visita senologica con il dottor Francesco Marsiglia. Le prenotazioni potranno essere fatte al numero 0865 92 96 71. E parliamo adesso di Europa. David Sassoli, la saggezza e l'audacia ai discorsi per l'Italia e l'Europa. Oggi al Dipartimento Giuridico dell'Unimol di Campobasso la presentazione del volume alla presenza di docenti ed esperti in materia di diritto europeo. Mandiamo all'intervista. Professor Pace siamo qui oggi all'Università al Dipartimento Giuridico per presentare un importante volume che parla proprio dell'Unione Europea della storia dell'Unione Europea. Sì, il libro dei discorsi di David Sassoli che lui ha tenuto tra il dicembre 2019 e il 21 quando poi purtroppo è venuto a mancare. e io consiglio l'acquisto e la lettura di questo volume perché non è solo un elenco di discorsi ma il dottor Surdo che ha curato l'organizzazione ha creato una vera e propria memoire cioè una memoria dell'attività politica che David Sassoli ha svolto come Presidente del Parlamento Europeo. C'è oggi una figura che riesca in qualche modo a perseguire le tappe di David Sassoli? L'attuale Presidentessa sicuramente ha un ruolo importante la peculiarità della posizione di David Sassoli è che lui è stato Presidente durante la pandemia e quindi ha dovuto contribuire con Consiglio e Commissione a trovare nuove soluzioni all'interno del processo di integrazione europea. Attualmente il tema non è quello della pandemia è purtroppo quello collegato alla crisi e guerra in Ucraina e le dinamiche sono più collegate alle volontà degli Stati più che alle istituzioni dell'Unione. Oggi l'Europa è chiamata ad una grande sfida per la prima volta dopo tanti anni mette a disposizione un'enorme quantità di fondi a disposizione per il rilancio dell'Europa. Quali sono gli obiettivi? Soprattutto quest'Europa sta cambiando. Come e perché sta cambiando? La risposta è sì, sta cambiando e questo è anche grazie a David Sassoli e alle politiche che si sono sviluppate durante la pandemia. Infatti il Next Generation EU e che è sostanzialmente il grande programma che fornisce e sta fornendo importanti fondi ai singoli Stati membri, la struttura del Next Generation EU sarà utilizzata nella riforma del cosiddetto patto di stabilità e crescita di modifica del quadro giuridico dell'euro. Quindi sta cambiando, le istituzioni dell'Unione cambiano sempre lentamente a fronte di crisi e la grande crisi della pandemia ha determinato un passo in avanti che speriamo continuare. Torna sabato 22 aprile un altro pendei al termovalizzatore di Pozzilli gestito dal gruppo ERA. L'appuntamento attraverso visite guidate è destinato ai cittadini, alle scolaresche per far conoscere tutti i processi dell'impianto. Ma andiamo a vedere. Dopo l'ottimo successo di inizio marzo di quest'anno la direzione aziendale del gruppo ERA ha deciso di ripetere l'apertura straordinaria del termovalorizzatore che gestisce nel territorio di Pozzilli. L'appuntamento con i cittadini e soprattutto le scolaresche sarà dalle 10.30 di sabato 22 aprile dietro naturalmente una prenotazione che si potrà effettuare entro venerdì 21 aprile attraverso una mail all'indirizzo pozzilli-gruppoera.it indicando nome e cognome di chi vuole partecipare alla visita che naturalmente sarà guidata dagli esperti del gruppo ERA gestore dell'impianto di Pozzilli. I partecipanti avranno dunque la possibilità di conoscere i vari processi dalla generazione elettrica all'abbattimento e controllo delle emissioni ed entrare nell'ambito della conoscenza del percorso che dal combustibile solido da rifiuti produce energia elettrica in grado di coprire un fabbisogno di circa 84.000 cittadini. Il programma della visita inizia con una breve descrizione delle principali fasi della lavorazione perciò si parlerà subito del trattamento dei rifiuti e di come si giunge alla generazione dell'energia elettrica ed ancora dell'abbattimento dei fumi per poi passare alla visita vera e propria della durata indicativa di un'ora nel corso della quale sarà possibile approfondire con i vari tecnici gli aspetti del funzionamento e, cosa importantissima, dei controlli ambientali dell'intero impianto. Da venerdì 21 a domenica 23 aprile l'ex onmi di Campobasso da Spazio alla seconda edizione di Lettere Binari è una mostra a mercato dell'editoria molisana che intende fare una ricognizione della cultura stampa prodotta in regione ma anche approfondire le questioni aperte di un settore rivoluzionario delle innovazioni tecnologiche che hanno determinato e alimentato il grande switch dall'analogico al digitale. E fa discutere a disernia il servizio di vigilanza nelle ore notturne nel centro storico opinioni infatti discostanti tra loro favorevoli e non sull'operato sia dei vigilanti che sull'amministrazione comunale ma andiamo a vedere adesso i dettagli. Torna ad essere di nuovo argomento di dibattito il servizio di vigilanza nelle ore notturne nel centro storico di Isernia. La consigliera di maggioranza Elvira Barone è intervenuta in merito alle modalità utilizzate per assicurare ai residenti del territorio comunale di più antica formazione una maggiore sicurezza. Sono stati selezionati dalla giunta comunale poliziotti privati senza aver interpellato il consiglio non rispettando così la volontà dei consiglieri ha dichiarato Barone rivolgendosi al sindaco Castrataro e all'assessore a ramo Domenico Di Baggio. Non è la prima volta che accade inoltre ha concluso la consigliera il servizio di vigilanza del centro storico non solo è stato affidato senza bando di gara ma questi non essendo ufficiali di polizia giudiziaria non possono fermare le persone per fare perquisizioni sarebbe opportuno quindi l'incremento di unità di forze dell'ordine. Una polemica che già in passato era stata sollevata con un'interrogazione al primo cittadino da due consiglieri di minoranza Filomena Calenda e Raimondo Fabrizio. È di tutt'altra opinione invece il Comitato Centro Storico di Isernia una vicenda che appare più politica che amministrativa e quanto infatti si legge in una nota i cittadini residenti nella parte storica devono veder riconosciuto il loro diritto alla quiete e alla sicurezza in particolare nelle fasce notturne. Il disagio di chi vive nel borgo antico è legato infatti a problematiche che riguardano il decoro l'ubriachezza molesta lo spaccio le deiezioni di ogni genere i rifiuti e gli schiamazzi notturni. Vogliamo ringraziare l'assessore Domenico Di Baggio che ha accolto alcune delle nostre istanze ed è riuscito ad arginare sensibilmente alcune criticità notturne prosegue la nota. Ci auguriamo infine che le vicende interne alla politica lontane anni luce dagli interessi dei cittadini non vanifichino il lavoro svolto fino ad oggi. e andiamo ora a vedere le previsioni del meteo. Metal impianti carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio pvc e legno alluminio Metal impianti Boiano Info 0874 77 087 34 54 Gruppo Zulli dal 1975 con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli ceramiche a Città Sant'Angelo e nei prezzi di Mondo Convenienza aperti tutti i giorni compresa la domenica La gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo Clima ancora incerto nella prima parte di oggi su Molise-Abruzzo cielo coperto e possibili precipitazioni sparse anche nelle ore serali 20 settentrionali in mare adriatico mosso le temperature sono previste dagli 8 gradi di Campobasso fino ai 13 di Isernia per il Molise e dalla minima di 8 gradi dell'Aquila fino alla massima di 14 a Pescara per l'Abruzzo domattina sulle due regioni ci sarà un innalzamento dei valori atmosferici cielo variabile correnti nord-occidentali TLT in rete vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D eccellenza e promozione risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti TLT in rete ogni domenica dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15.30 superato il Cus Caserta nel primo turno torna in campo oggi pomeriggio la selezione di calcio a 5 del Cus Molise per l'andata del secondo turno di qualificazione alla fase finale dei campionati nazionali universitari alle 15 il quintetto di Antonio Di Stefano ospita il Palahunimol di Campobasso il Cus Reggio Calabria all'appello mancherà Denisco squalificato dal giudice sportivo e nel calcio interregionale il Pineto deve rinviare la festa promozione Lega Pro a Roma arriva una sconfitta per mano del Trastevere terza forza del torneo il big match intera capitolina della 31esima giornata il Pineto perde per 2-0 contro i padroni di casa del Trastevere dopo il vantaggio capitolino firmato all'onzi al 23esimo sul calcio di rigore nel secondo tempo Crescenzo raddoppia per i Granata prossimo turno sfida Casaringa per i Biancazzurri contro il Porto d'Ascoli la partita incomincia con il consueto equilibrio tra le due compagini al 22esimo arriva il primo momento spartiacque patatrac della difesa biancazzurra tocco di mano di Nonni e calcio di rigore dal dischetto all'onzi beffa mercorelli che intuisce ma non riesce a deviare i rivieraschi provano a contraattaccare azione fotocopia santo vita o tocca con il braccio ma per bailati di crema tutto regolare tra le proteste ospiti dalla parte opposta di Costanzo crossuradentinaria nella carambola ultimo tocco di Cervoni che c'entra il palo nuovamente gli abruzzesi inferociti spingono Allegretti prende la mira Semprini a branca a fine primo tempo ancora il pineto consorte va sul fondo e pesca Giambè Cioccolatino al centro ma Mini Incleri non riesce a scaramentare in fondo al sacco a una mancetta di secondi dal termine ancora un'occasionissima per i terramani Losicco al centro parapiglia nel cuore dei 16 metri locali ma ancora Super Semprini nega il pari a Di Filippo nella ripresa la sfida prosegue sempre sui binari dell'equilibrio i trasteverini potrebbero raddoppiare l'oporto uncino a mercorelli vuole devia in corner il match non conosce su Sulti e scivola via a 10 dal termine su corner nessun biancazzurro riesce a confezionare l'agoniato pareggio gol mangiato gol subito su error acido difesa ospite Crescenzo con un palonetto deposta il pesantissimo 2 a 0 nel finale prima Braghini spara alto e successivamente Emili non riesce a beffare Semprini domenica amara per i biancazzurri che possono però rifarsi tra una settimana contro il Porto d'Ascoli Tre punti sporchi ma meritati quelli del Campobasso sul terreno di Pietramonte Corvino rosso-blu forse apparsi stanchi mentalmente ma capaci di rimanere sempre in partita il commento dell'attaccante Francesco Ripa ascoltiamo le nostre microfoni Francesco Ripa in questa partita è successo davvero di tutto siamo stati anche secondi per qualche minuto poi abbiamo trovato il pareggio tutto in dieci minuti una vittoria che sta anche di liberazione sì sì è stata una partita una partita strana sembrava che la palla non volesse volesse entrare poi a dieci minuti alla fine siamo riusciti pure a prendere gol senza aver subito un tiro in porta poi per fortuna siamo stati bravi con la voglia con la cattiveria a ribaltarla e credo che sia una vittoria meritata credo che una vittoria che ci meretevamo tutti con i tifosi con la società e con la squadra ecco una vittoria veramente di cuore di squadra di gruppo c'è tutto in questi tre punti oggi sì sì c'è la dimostrazione di un gruppo forte unito che nelle difficoltà oggi soprattutto oggi che per cinque minuti eravamo secondi siamo riusciti a ribaltarla e siamo contenti per questo però mancano altre due partite un'altra partita come questa non deve succedere perché se no diventa diventa dura adesso una sosta per ricaricare un po' le pile poi Campodipietra e la Turris sì sì questa sosta ci voleva recuperiamo un paio di giorni abbiamo una settimana per soprattutto mentalmente per recuperare visto che abbiamo giocato ogni tre giorni per due settimane e poi preparavamo la partita con il Campodipietra e l'ultima con la Turris inizia con il piede giusto i play-off la Magnolia Basket nel campionato femminile di serie B le molisane del tecnico Dragonetto hanno superato tra le mura amiche 72 a 64 il Perugia tra le rosso-blu si è distinta l'americana Queen Nonez con 25 punti raggiunti ai campionati italiani assoluti di nuoto a Riccione la società molisana H2O raccoglie i frutti del lavoro svolto nei mesi precedenti Martina Lonati e Luca Angelilli confermano di essere un ottimo momento in forma soprattutto in vasca la Lonati chiude al 24esimo posto mentre il compagno di squadra Angelilli completa i centurana al 31esimo posto finale per entrambi il primato personale stagionale e con questa notizia sportiva è tutto termina qui questa edizione come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime arrivederci e vi ringrazio per la cortese per la cortese per la cortese e vi ringrazio